due prosecchie sono ragazzi è arrivata all xbox series x è arrivata xbox series x adesso facciamo l'unboxing eccoci qua nell'unboxing fatto da l'onora xbox series x power your dream no rimane chiusa e basta urca miseria una bella bomba questa cosa c'è dentro la confezione eonora un quadrato qua un posa cenere un posa cenere beh è fatta così si è fatta così con la nuova eh si è fatta così con la nuova a me piace come design a tanti non piace a me sembra tipo una cassa di quelli di cento di disco no ce l'ho io per il disco l'ho presa col disco guarda ok questa è la nuova xbox series x lettore cd oh è pesante ragazzi io che devo più leggera no no pesa è molto pesante molto molto pesante adesso la colleghiamo subito e vedo come però non non c'è un pad non c'è niente qua dentro mi pare strano pagare a chi a chi pagare a chi io pago niente di suo io adesso vi faccio vedere cosa c'è qua dentro qua dentro ci sono allora i cavi hdmi c'è il joypad in carta no? in carta da giocare su carta e poi c'è appena arrivato un corriere ragazzi mi ha portato la tastiera nuova del pc e l'xbox series x quindi vediamo un pochino lo spacchettamento è fatto in casa sapete che io sono molto è il pad stesso dell'xbox dell'xbox cambia ok la freccia direzionale e c'è il tasto per condividere ma è sempre lui è sempre il nostro pad che conosciamo comunque con un tasto in più e la freccetta direzionale fatto in questo modo qui però è il nostro poi ci metto la batteria sente alla batteria va bene c'è tutto dai alimentatore non so se ci sia altro nella scatola adesso beh ragazzi io sono contento questo l'xbox è molto pesante ma io sono contento speriamo che mi si veda io sono contento tu sei contento? sono contento per te! noi siamo tutti contenti noi siamo tutti contenti adesso andiamo a mangiare la salsiccia dai ma sapete cos'è la salsiccia ve lo dico sapete che i nostri unboxing fanno cagare quindi ve lo dico adesso la salsiccia andiamo a mangiare la salsiccia che è la salsiccia il vino abbiamo fatto un aperitivo ah c'è anche la batteria no no batterie su queste ne devo comprare di nuove ma ce l'ho ce l'ho una per il pad batteria da 2006 2005 della pinkor punkor una roba del genere che andrà bene comunque e va bene ragazzi poi faccio sapere è bello è bello ergonomico ho cancellato l'ultimo pezzo di video guarda qua qua stiamo già a mangiare ho cancellato l'ultimo pezzo di video perché si vedeva un codice non sapevo se andava bene se non andava bene non lo so comunque adesso stiamo a mangiare la console io l'ho collegata sta aggiornando bene 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 è arrivata l'Xbox Series X ragazzi festa ciao